Chiudi gli occhi, ascolta il tuo respiro. Cos'è la felicità? Per me la felicità è in tante cose. È quando sorridi e non te ne accorgi. È la tua canzone preferita che capita casualmente a radio. È un caffè con un'amica, un incontro casuale che diventa una passeggiata. È qualcuno che anche solamente guardando ti capisce tutto, senza che tu gli abbia detto niente. È un abbraccio affettuoso che arriva da dietro le tue spalle. È un messaggio inaspettato nel momento giusto. Ritrovare un profumo che ti piace e non sentivi da tempo. Sono i baci sul collo, le carezze sulle mani, i baci rubati. E incrociare una persona che non conosci per strada e vedere che ti sorride. La felicità è in tante cose, nelle più piccole e semplici cose della nostra vita. E non si può trovare, gliela dobbiamo mettere. Sì, la felicità non va inseguita, non va trovata. La felicità si crea. È un modo di vedere le cose, un modo per affrontare la vita senza averne paura. La felicità non l'ha chi possiede tutto, ma chi sa apprezzare ciò che ha. Prima di litigare, respira. Prima di parlare, ascolta. Prima di criticare gli altri, critica te stesso. Prima di arrenderti, prova. E prima di essere triste, sorridi. Non chiederti se ci saranno le opportunità giuste, creale. Non domandarti se domani pioverà. Oggi c'è il sole, è questo che conta. Goditi ogni istante, ogni emozione. Sono queste le nostre piccole dosi di felicità. Per essere felici basta eliminare due cose. Il ricordo di una sofferenza passata e la paura di una futura. La prima non ci riguarda più e la seconda non ci riguarda ancora. Quindi, soprattutto quando ti senti triste, ricordati di essere felice. Chiudi gli occhi. Ascolta il tuo respiro. Non è questa la felicità? 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 Non è questa la felicità?